Cresi di giunta a Teramo si sono dimessi. Anche gli altri quattro assessori per agevolare la soluzione a Brucchi. Cronaca ritrovato senza vita in un fosso il pescatore 54enne disperso ieri vicino Cerqueto. Crisi di giunta a Dodo di Sabatino. Il sindaco si sta muovendo bene nel tentativo di superare l'impasse. Ex scuola Carlo Febbo. La struttura di San Nicolò preda di Vandali. PD e Teramo cambia. Intervenire subito. Cronaca spettacolare incidente. Ha bloccato per due ore la statale 80 dal bivio di Torricella. Traffico deviato. Sport calcio. Il Teramo ad un passo dalla firma con Zauli. Raggiunto l'accordo verbale. Basket ritorno al futuro. Per il Campli con Lucio Del Paggio, presidente onorario e nuovi sponsor. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Apriamo con la cronaca. È stato trovato senza vita il pescatore disperso da ieri a Cerqueto. Il corpo del pescatore disperso da ieri è stato notato galleggiare in un fosso di acqua in un punto molto impervio nei pressi del rio San Giacomo di Cerqueto. I dettagli nel servizio. Pasquale Stanchieri, 54 anni, ex dipendente della Teramo Ambiente, è stato trovato senza vita in un dirupo boscoso dove il rio San Giacomo forma un profondo borgo d'acqua. Un punto inaccessibile agli stessi abitanti della zona che evitano di raggiungerlo anche se molto pescoso e ricco di trote. Ed era proprio con l'intento di pescare trote che Pasquale, appassionato ed esperto pescatore, era uscito di casa ieri mattina verso le 10.30. Per la madre il suo ritardo, abituale nelle ore piccole della notte, era diventato preoccupante questa mattina verso le 8, quando non era ancora rincasato. È stato allora che è scattato l'allarme. Il fratello Berardo, noto artigiano teramano, si è messo subito in movimento assieme ad amici e altri appassionati di pesca per cercarlo. Si è mossa anche la macchina dei soccorsi con vigili del fuoco, polizia provinciale, polizia di stato, Carabinieri e Forestale, a setacciare le zone impervie della zona di Cerqueto, dove la Y10 di Pasquale Stanchieri è stata trovata questa mattina, poco prima di mezzogiorno. Sul sentiero accanto, i residenti e conoscenti del posto hanno indirizzato le ricerche. Verso le 13.30 il corpo del malcapitato pescatore è stato individuato galleggiare nel borgo dagli uomini della Forestale, cui si sono aggiunti i carabinieri della stazione di Pietracamela. Di lì a poco tutti i soccorritori hanno lavorato per recuperare il corpo, raggiunto non senza difficoltà, in un punto difficile, dagli uomini del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino. Mentre il personale del 118 era pronto per la constatazione di morte, un elicottero dei vigili del fuoco di Pescara ha raggiunto in quota la zona e dopo una complessa operazione è stato possibile imbracare la barella con la salma e essarla a bordo per il trasferimento all'ospedale di Teramo. Il magistrato di turno, Stefano Giovagnoni, ha aperto un'inchiesta e in queste ore sta decidendo se affidare l'autopsia. E adesso la crisi al comune di Teramo si è conclusa con le dimissioni degli ultimi quattro assessori, l'esperienza del Brucchi Bis, la giunta del secondo mandato amministrativo del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Su richiesta dello stesso sindaco, infatti, Mario Cozzi, Valeria Misticoni e Marco Tancredi del nuovo centrodestra e Mirella Marchese di Forza Italia hanno rassegnato le proprie dimissioni. Sono gli stessi che due settimane fa, all'indomani delle dimissioni dei quattro assessori di Futuro In, avevano annunciato al primo cittadino la loro disponibilità a rimettere il proprio mandato non ratificata dal sindaco per evitare che la città restasse senza un esecutivo troppo a lungo nelle more della composizione di una nuova giunta da tempo annunciata dallo stesso Brucchi. Adesso sembra che il momento sia giunto ed annunciato per il fine settimana. Queste dimissioni giungono, infatti, a fare da preludio al varo di un Brucchi Ter. Ho preso atto di questo nuovo scenario politico, commenta il sindaco. È necessario a questo punto un cambio di passo che metta da parte personalismi che sono fisiologici e ci possono anche stare, ma non possono e non devono essere prioritari rispetto alla città che amministriamo. Ecco perché mia intenzione, aggiunge Brucchi, dopo questa fase delle dimissioni, riunire tutte le forze politiche per contribuire alla costituzione della piattaforma programmatica che possa tracciare la nuova rotta da seguire nei prossimi anni. I gruppi si riuniranno domani per discutere delle linee programmatiche che lo stesso primo cittadino ha elaborato e consegnato alle forze politiche. Sono certo, ha detto ancora Brucchi, che tutti insieme sapremo trovare le giuste motivazioni e i presupposti per la ripartenza dell'attività politico-amministrativa del Comune di Teramo. Sono soddisfatto della direzione politica presa dal sindaco nel risolvere la crisi di giunta. Lo ha detto Alfonso Di Sabatino Martina di Teramo soprattutto, commentando gli sviluppi in merito al rimpasto di giunta. E' un segnale importante, lo dico con un pizzico di soddisfazione perché quella discontinuità che in qualche modo tutti invocavano mi sembra si stia declinando. Lo dico anche con rispetto di chi ovviamente sarà fuori dal nuovo esecutivo ma la politica d'altronde non può essere un mestiere, deve essere qualcosa di davvero serio e bisogna recuperare anche un legame forte con la città e credo che questo sia un passaggio non solo obbligato ma sia un passaggio che insomma il sindaco ha compreso di fare. C'è chi parla di, tra virgoletto ovviamente, Vittoria, di Dodo, di Sabatino. Lei si aspetta un assessorato per il suo gruppo? No, noi abbiamo già detto, noi siamo fuori dall'esecutivo ma convintamente continueremo a appoggiare questa maggioranza perché laddove ci sarà questo segnale forte di discontinuità ha declinato nella misura in cui noi lo spiegavamo è chiaro che noi diventeremo parte integrante di questa maggioranza più di quanto non lo siamo stati fino ad oggi. Noi siamo contenti che questo sia avvenuto. Lo dico veramente ringraziando il sindaco perché davvero oggi credo che la percezione che i cittadini avranno dopo la nuova formulazione dell'esecutivo sarà che il sindaco davvero è iniziato a fare il sindaco. Sarebbero fuori dalla nuova giunta nomi eccellenti come ad esempio gli ex assessori di Giovan Giacomo e Rudy Di Stefano? Io due anni fa sono restato fuori, non ho fatto nulla di particolare fa parte della vita di ognuno di noi avere a volte anche degli insuccessi o comunque delle scelte che non si comprendono poi la ragionevolezza e il buonsenso e l'appartenenza a un gruppo devono prevalere sul resto. Chi commette falle di reazione evidentemente poi si chiama fuori da un gruppo al quale credo insomma si debba richiamare. Io suggerisco agli amici che avranno più o meno motivatamente o più o meno consapevolmente o più o meno colpevolezza resteranno fuori da questa amministrazione e gli suggerisco la stessa intelligenza che ho avuto io. Chiudete bene la struttura o non resterà nulla dell'ex scuola Carlo Febbo di San Nicolò? È quello che chiedono i gruppi consigliari del PD e di Teramo Cambia circa la situazione di degrado della struttura oggetto di continui vandalismi. Il servizio. Il Partito Democratico e Teramo Cambia denunciano lo stato di abbandono in cui versa la scuola Carlo Febbo di San Nicolò. Questa mattina avete chiesto anche l'intervento dei vigili urbani? Sì abbiamo chiesto l'intervento dei vigili perché c'è il cancello di ingresso che praticamente stava per cadere ed era molto pericoloso. Abbiamo chiesto poi di entrare perché si vedevano delle finestre comunque rotte e quindi pensavamo all'ingresso di vandali all'interno della struttura che ahimè poi si è rivelata un'opzione vera. Quindi l'interno della scuola Carlo Febbo è completamente distrutto. Ci sono estintori svuotati all'interno, muri con scritte di tutti i tipi, televisori rotti e tutto lasciato all'interno in maniera proprio... Evidentemente sono entrati chiaramente dei vandali e hanno distrutto tutto ciò che c'era da distruggere. Per quella scuola c'è però un intervento? Su quella scuola c'è un progetto che attualmente ho dei dubbi che possa essere valido per la ristrutturazione interna perché veramente l'hanno ridotta ai minimi termini. Noi denunciamo lo stato di... Cioè praticamente questa amministrazione si dimentica proprio di controllare tutti i beni del suo patrimonio, in particolare la signora Carlo Febbo è abbandonata da diversi anni. L'intervento che loro vogliono fare è urgente a questo punto ma almeno chiediamo che la struttura venga sorvegliata, che venga controllata, che venga rimessa, che venga chiusa naturalmente è resa inaccessibile ai vandali. Questo almeno chiediamo in questa fase. Spettacolare carambola questa mattina lungo la statale 80 nei pressi del bivio di Villa Ripa. Due autovetture si sono scontrate frontalmente proprio nel tratto in cui la strata si snoda in una serie di semicurve. Il bilancio dell'incidente è fortunatamente lieve con due persone rimaste ferite leggermente. Un uomo di 42 anni e un anziano 70enne che viaggiavano sui due mezzi che state vedendo nelle immagini. Sono stati trasferiti con due ambulanze al pronto soccorso del Mazzini con prognosi leggere. La posizione delle due autovetture, il punto cruciale del tratto di strada, hanno però determinato la chiusura della statale 80 in entrambi i sensi di marcia per più di un'ora con l'obbligo di deviazione sui percorsi alternativi da e per Montorio attraverso la provinciale per Torricella e con ripercussioni sensibili su traffico e code chilometriche fino all'immediata periferia di Teramo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Teramo. Lunedì ci sarà lo sciopero nazionale dei lavoratori dell'igiene urbana per il rinnovo del contratto. La manifestazione abruzzese, organizzata dai sindacati, si terrà a Teramo sotto il municipio. Sciopero generale lunedì prossimo per i lavoratori dell'igiene ambientale per il rinnovo del contratto. Sì, per il rinnovo del contratto nazionale. Le organizzazioni sindacali hanno deciso per il 30 maggio di fare uno sciopero generale di tutti i lavoratori che si occupano di igiene ambientale. Hanno deciso anche a livello nazionale di fare dei presidi regionali. In Abruzzo abbiamo deciso che il presidio si farà a Teramo sotto il comune di Teramo. Da che ora? Dalle 9.30 alle 12.00. Poi chiederemo di essere ricevuti dal sindaco per spiegare le motivazioni di questo sciopero. Ci potrebbero essere dei disservizi? Beh, sicuramente, perché a Teramo, ma come nelle altre città, Giuliano, Val Vibrata, eccetera, se i lavoratori, come io penso e spero, aderiscono in massa, perché questa è una battaglia che noi facciamo contro le controparti a livello nazionale che vogliono praticamente stralciare il contratto nazionale e chiaramente la cosiddetta deregulation perché poi possono avere mani libere anche nei cambi appalti. Per cui spero che sia a Teramo che nel resto della provincia ci sia un'ampia partecipazione. Sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori addetti a pulizia e decoro nelle scuole indetto dall'Unione Sindacale di Base per domani. In Abruzzo è prevista anche un'assemblea regionale a Torricella Sicura presso la sala della comunità montana Monti della Laga a partire dalle 10. Rompiamo le catene, lo slogan dello sciopero. L'Unione Sindacale di Base denuncia situazioni di sfruttamento con aumento dei carichi di lavoro, orari iperflessibili, trasferte non retribuite, ferie forzate. Dopo la multa dell'autorità antitrust alle imprese di pulizie per aver creato un vero e proprio cartello falsando gli esiti della gara Consip in violazione di leggi nazionali ed europee e a seguito della bocciatura del sistema Scuole Belle da parte dell'autorità anticorruzione, dice il sindacato, che aveva evidenziato le criticità degli appalti. L'Unione Sindacale di Base chiede soluzioni per rendere più funzionale la scuola attraverso l'internazionalizzazione del servizio con inserimento degli addetti nelle graduatorie per l'assunzione come personale ATA. La CISL lo ha detto chiaro, la tua, la società dei trasporti pubblica abruzzese o diventa un esempio positivo anche per altre regioni oppure porta i libri in tribunale. Il presidente della tua, Luciano D'Amico, ha sottolineato che recuperando 8 milioni di euro sono stati garantiti servizi e retribuzioni dei dipendenti. Il servizio. La neonata società pubblica del trasporto abruzzese, la tua, o diventa esempio positivo anche per le altre regioni o nel giro di poco tempo rischia di andare con i libri in tribunale. Lo ha detto a margine di un convegno che si è tenuto a Montesilvano sul ruolo di tua nel trasporto pubblico locale, il segretario nazionale FIT CISL Giovanni Luciano sottolineando che c'è una scarsa consapevolezza da parte delle regioni del fatto che non ci sono più le risorse di prima. Nello stesso convegno è intervenuto il presidente di tua, Luciano D'Amico. Nel 2015, ha detto, l'azienda unica del trasporto abruzzese mantenendo lo stesso esercizio e gli stessi servizi a chilometraggio e retribuzioni invariate ha recuperato 8 milioni di euro. Il presidente di tua ha sottolineato che l'obiettivo ora è quello di aumentare la produttività. Dopo la fusione, ha detto D'Amico, ci siamo occupati di cambiare la filosofia di fondo della società perché si assisteva ad un'esternalizzazione spinta. È ora necessario avviare un percorso di qualificazione ulteriore dei servizi, si è detto convinto D'Amico, definendo ad esempio gioielli di famiglia, l'officina gomma Chieti Pescara e quella del ferro di Lanciano. Il sistema sta cambiando in fretta, ha aggiunto D'Amico, ed è impensabile credere di non assistere ulteriori riduzioni di risorse. La soluzione più facile sarebbe ridurre le spese sul personale, ma non faremo questo, non vogliamo trasferire i minori contributi sulle buste paga. Bisogna allora aumentare la produttività e potremo farlo solo attuando l'integrazione tra ferro e gomma. Il presidente di Tua si è anche soffermato sull'importanza dell'integrazione tra le modalità di trasporto urbano, suburbano ed extraurbano, perché per aumentare la produttività dobbiamo rivedere queste categorie di servizio e in tal senso a breve presenteremo un progetto. Sono aumentati i ricorsi presentati al Corecom Abruzzo degli oltre 5.000 pervenuti ben l'84% si è concluso con esito positivo che ha garantito circa 3 milioni e mezzo di euro di indennizi alle famiglie e alle imprese abruzzesi. Il servizio sono stati 5.300 ricorsi pervenuti nel 2015 a fronte dei 4.240 del 2014 e dei 3.222 del 2013 di questi 5.300 l'84% si è concluso con esito positivo per un totale di 3.473.400 euro di indennizi alle famiglie e alle imprese abruzzesi. Questi sono i dati registrati l'anno scorso che pongono il Comitato Regionale per le Comunicazioni il Corecom Abruzzo tra i primi 4 in Italia in termini di efficacia ed efficienza nella risoluzione delle problematiche tra i cittadini utenti e le compagnie del settore delle telecomunicazioni operanti sull'intero territorio nazionale con una crescita dal 2007 al 2015 del 313% delle istanze di conciliazione e dal 29 aprile scorso il Corecom Abruzzo come riportato sul sito pone al servizio dell'utenza il modulo per la presentazione anche online delle istanze per la risoluzione delle controversie circa i servizi di telefonia fissa mobile e pay tv il Corecom gratuitamente come in tutti gli altri settori è a disposizione di chi ne abbia necessità ai numeri pubblicati nella sezione online contatti e si può cliccare su concilia online per conoscere la data dell'udienza e per avere tutte le comunicazioni da parte del Corecom Abruzzo a Giulia Nova è partito l'iter per l'ampliamento del porto con la realizzazione di un nuovo molo il servizio Presidente Vasanella non il giorno della prima pietra è arrivato eh sì eh sì lo aspettevamo da tanto la città lo voleva e quindi finalmente siamo arrivati a questa bella realtà che principalmente produrrà due effetti caro direttore è quello di essere eh di risolvere in via definitiva la sicurezza all'interno dell'area portuale e anche l'insambiamento sono due aspetti che devono essere contenuti e quindi noi con questa opera andiamo a realizzare io spero che in avanti essendo noi un porto di valenza regionale eh si possa continuare ad avere intesa con la regione col comune e con la provincia affinché questa realtà portuale diventi sempre più importante sempre più conosciuta all'interno della regione e non solo allora inizio dei lavori e poi prosecuzione fino a quando poi avremo un cantiere nel porto dunque se tutto va secondo come dovrebbe andare da qui a un paio di settimane inizieranno i lavori mancano solo alcuni aspetti tecnici eh poi parlando con l'ingegner Schiavo che è il diciamo il titolare dell'azienda che ha vinto l'appalto lui ha detto mi ha parlato di 6-8 mesi di lavori per far sì che si riconsegni l'opera alla città e voi farete in modo naturalmente che tutto questo non influisca sulla normale attività sia pescareccia che di porto sì io noi ci adopereremo a questo sicuramente la capitania di porto dovrà provvedere con alcune prescrizioni che sicuramente ci saranno di contenere un po' questo movimento di camion che ci saranno all'interno dell'area portuale potremmo sfruttare il fatto che in estate per esempio in pieno agosto c'è il fermo di pesca per cui il lavoro si riduce notevolmente comunque loro vorrebbero lavorare d'estate perché d'inverno certamente c'è molta più problematica a livello di lavoro sulla parte esterna del molo nord e alla cerimonia della posa della prima pietra al porto di Giulianova c'era anche l'assessore regionale Dino Pepe che ha parlato degli interventi previsti per gli argini dei fiumi sentiamolo l'assessore Pepe torna spesso a Giulianova qui parliamo di porto cioè di una messa in sicurezza dell'imboccatura per evitare insabbiamento e per evitare che l'acqua insomma il specchio acqua sia mosso quando fuori c'è tempesta un investimento importante di 4 milioni e 200 mila euro derivando dai fondi FAS già programmati dalla vecchia amministrazione regionale un intervento molto atteso dalla comunità di Giulianova e non solo eviterà una serie di problematiche sia la pesca professionale sia la pesca sportiva ma è vero che ci manca qualcosina un milioncino c'è un ribasso d'asta importante adesso verificheremo insieme al governatore e all'aggiunta la necessità e l'opportunità di investire ulteriormente quindi è possibile andare a completare l'opera iniziamo quest'opera molto attesa sul territorio l'investimento complessivo come dicevo prima è di 4 milioni e 2 adesso le economie dalla gara cercheremo di utilizzarle nel miglior modo possibile io la faccio la domanda approfitto con gli argini come siamo messi? gli argini del fune Tordino sono problematiche assolutamente importanti le stiamo valutando programmando e progettando insieme al genio civile regionale insieme all'amministrazione comunale nella prossima variazione di bilancio abbiamo stabilito insieme all'assessore al bilancio Paolucci di inserire una variazione di un milione e due per quanto riguarda il salinello e terminare così i lavori circa quel fiume Tordino lei era venuta a fare un sopralluogo con quell'istomo che si era formato su questo tema ci sta lavorando sia il genio civile sia il settore della gestione delle acque l'ingegner Carlovisca per verificare l'opportunità di intervenire purtroppo ci sono sia dei problemi di bilancio e sia dei problemi di carattere ambientale superabili confidiamo nel superamento quanto prima di questi problemi giovedì 26 maggio sarà celebrato anche quest'anno in un clima di sobrietà nella sala consigliare del municipio di Atri il 164esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato il tema celebrativo è esserci sempre alle 9 e un quarto prima della cerimonia saranno resi gli onore ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona dal loro alla targa commemorativa dell'allievo sotto ufficiale Settimio Passamonti in questura alla presenza del prefetto alle ore 11 la cerimonia che prevede la lettura dei messaggi del capo dello Stato e delle altre autorità nazionali l'indirizzo di saluto del questore la consegna delle ricompense per le più importanti operazioni di polizia e la premiazione degli studenti dell'Istituto Superiore Zoli di Atri per la redazione del miglior elaborato sulla legalità il disegnatore Carmine di Gian Domenico cercherà di stabilire il record dei primati realizzare dal 10 al 12 giugno non stop 56 tavole di un fumetto che poi verrà pubblicato in questi tre giorni a Teramo nella Villa Comunale dove si svolgerà la rassegna Teramo-Iros ci saranno anche delle manifestazioni collaterali sentiamo dal 10 al 12 giugno alla Villa Comunale di Teramo si svolgerà la manifestazione Il fumetto è donna organizzata dall'associazione culturale Teramo-Iros nell'ambito della manifestazione il disegnatore Carmine di Gian Domenico tenterà di stabilire un nuovo record dei primati in 48 ore 56 tavole verranno realizzate sì in 48 ore 56 tavole è un programma diciamo massacrante una bella sfida che ho deciso di prendere ma non per un atto goliardico in sé ma per un'esigenza di poter portare a termine una mia storia perché queste strisce queste tavole racconteranno il ritorno di Ulisse a Itaca però quello mio Ulisse che è stato edito nel 2004 da Salda Press e poi verranno pubblicate sì verranno pubblicate a livello nazionale fine 2016 o al massimo metà 2017 dipende poi dalla casa editrice e delle sue tempistiche proprio organizzative e strutturali e quindi c'è questa sfida che più che altro per chiudere quel cassetto lasciato come ho detto in conferenza semi aperto quindi per un'esigenza personale e in più anche creare una sorta di evento particolare che la mia città possa insomma vivere e infatti il programma è ampio il programma è molto ampio e delle volte anche io mi ci perdo devo dire la verità avremo ben 16 autori di fumetto che hanno dittanza e conoscenza del settore e quindi parleranno con coscienza di come si fanno realmente fumetto e tra cui però principalmente gli autori più protagonisti dell'evento saranno delle autrici perché abbiamo deciso di chiamare il fumetto e donna il collegamento tra il Guinness e il fumetto e donna è che all'interno della mia storia si realizzerà nel finale dei dialoghi che la vera protagonista è Penelope non Ulisse che torna ma bensì chi è atteso il ritorno del proprio amato ci saranno poi delle serate musicali anche una sfilata di moda sì ci sarà una sfilata di moda di Sir Davide Gliezzi tre concerti serali tra cui Voragine un gruppo emergente locale Paolo Di Sabatino Maestranza Internazionale e in più Giovanni Baglioni figlio di Claudio Baglioni che farà il concerto di chiusura ma soprattutto vi saranno delle mostre importanti perché avremo in mostra a tavoli di Adriano De Vincentis noto autore internazionale considerato un maestro oramai del disegno in Francia in più lo stesso Adriano esporrà delle tavole insieme a Lola e Raghi tratte dal volume di Valentina che è un volume che è una dedica al personaggio di Guido Crepax ma in più avremo come rimando appunto a Crepax un altro illustre personaggio artistico del territorio che è Filippo Flocco che esporrà degli schizzi preparatori degli abiti per far vedere che tipo di lavoro c'è è in più per richiamare appunto Guido Crepax perché non tutti sanno che Guido Crepax nasce prima come stilista prima che come disegnatore di fumetti L'istituto di Popparozzi di Teramo ancora una volta protagonista di un partenariato scolastico europeo per la promozione della mobilità sostenibile del cicloturismo fino al 27 maggio a Teramo ci sarà una conferenza internazionale con la partecipazione di 50 delegati da Romania Polonia Croazia Germania Lettonia Slovenia Repubblica Ceca ma la bicicletta sarà la vera protagonista il servizio Un grande progetto coinvolge l'istituto alberghiero di Popparozzi di Teramo una fiera sul cicloturismo per il 26 maggio a Teramo e poi una sorta di biciclettata dei ragazzi provenienti da tutta Europa E certo questa biciclettata ha girato veramente tutta l'Europa perché noi siamo andati nel loro paese loro sono venuti qua è un progetto che dura più di due anni è veramente un progetto significativo per la nostra scuola io voglio dire che la grande professionalità di questi docenti e anche le competenze acquisite dai nostri studenti permetteranno di attuare questo progetto importante ovviamente questo è un Erasmus Plus di partenariato scolastico per questo siamo otto paesi inclusa l'Italia provenienti da tutta Europa dalla Croazia Slovenia Repubblica Ceca Lettonia Germania Polonia e i ragazzi sono gli artefici di tutto questo progetto ovviamente essendo un turistico abbiamo sposato questo progetto che si basa appunto su ciclismo e turismo e va anche a promuovere una certa mentalità imprenditoriale nei ragazzi perché abbiamo dovuto lavorare su tre fronti contemporaneamente la promozione relazionale con il pubblico quindi cercare di fare marketing e pubblicità lavoriamo per un sito web una pagina web e una multinazionale virtuale che vende pacchetti in bicicletta alle scuole quindi nel corso di questi giorni vedremo anche ragazzi in diversi luoghi del Terramano assolutamente abbiamo studiato come diciamo pubblicizzare le nostre risorse locali e li vedrete in bicicletta proprio provare a essere noi stessi i cicloturisti di questa area e saremo qui a Terramo oggi pomeriggio con l'anello fluviale dopodiché domani un gruppo partirà dal Duomo di Terramo fino a Torricella e un altro per le strade dell'Olio che vedono le zone della Valle del Vomano e mercoledì invece pedaleremo sul mare in quanto siamo l'unico paese che offre questa opportunità Nell'ambito del corso di scrittura creativa promosso a Terramo dal Centro di Cultura delle Donne Anna Arendt e dall'Università degli Studi di Terramo domani mercoledì 25 maggio nell'Aula 4 di Scienze e Politiche si svolgerà l'ottava lezione di Andrea Carraro dalle 17.30 alle 19.30 saranno ospiti Ilaria Palomba scrittrice e performer autrice di alcune opere di narrativa e di poesia e Mario Savini critico d'arte e adesso andiamo a vedere insieme che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni per mercoledì 25 maggio in Abruzzo al mattino poco nuvoloso sulle aree collinarie e montane sereno sulle aree litorane nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle aree appenniniche sereno sulle aree costiere tra sera e notte moderatamente nuvoloso sulle zone interne e sui rilievi poco nuvoloso sulle zone marittime temperature in aumento massime comprese tra 21 e 24 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 23 e 26 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli nord orientali mare quasi calmo o poco mosso in provincia di Teramo al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle zone appenniniche sereno sulle zone costiere tra sera e notte moderatamente nuvoloso sulle zone interne e sui rilievi poco nuvoloso sulle zone marittime temperature in aumento massime comprese tra 24 e 27 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 21 e 24 gradi sulle coste venti deboli o moderati nord orientali mare quasi calmo o poco mosso ed eccoci allo sport iniziamo con il calcio il teramo sembrerebbe essere vicinissimo alla firma con l'allenatore Lamberto Zauli l'ex mister del Sant'Arcangelo dovrebbe aver superato la concorrenza di Pea e Colucci che fino a qualche giorno fa invece sembravano essere avanti nelle preferenze del presidente Campitelli niente firma sul contratto ancora ma l'accordo verbale sembrerebbe esserci sono stati 200 i presenti al forum con Marco Giampaolo l'iniziativa è stata curata dall'associazione italiana allenatori di calcio del gruppo regionale Abruzzo insieme ai gruppi provinciali di Pescara e Chieti un dibattito che ha incuriosito i tanti tecnici presenti all'aurum di Pescara Giampaolo si è confrontato con gli allenatori per un paio d'ore toccando tanti argomenti importanti l'AiAC organizzerà altri appuntamenti nell'arco del periodo estivo presentato per l'occasione il progetto voluto da l'AiAC nazionale di Coverciano Edu Giovani che consiste in 8 ore di formazione diviso in due parti 4 ore di teoria in aula e 4 ore di pratica in campo corso gratuito con tecnici federali direttamente nominati dalla sede di Coverciano il basket archiviato l'ultimo campionato culminato con la disputa dei playoff il Campli Basket sta già programmando la prossima stagione la principale novità è rappresentata dal rientro nella struttura societaria dell'avvocato Lucio Del Paggio che ricoprirà il ruolo di presidente onorario in panchina confermato coach Millina il servizio presidente chiusa una stagione sportiva si comincia a pianificare la prossima quali saranno le novità in vista appunto della prossima stagione sportiva allora innanzitutto siamo contentissimi di una stagione sportiva appena conclusa con un risultato storico per il Campli Basket il quarto posto acquisito un risultato che negli anni della canestro Campli non era mai accaduto ci sarà un ingresso importante in società l'avvocato Lucio Del Paggio che torna come dice lui il ritorno al futuro e questa è una delle grandi novità di quest'anno che penso anche sia la più importante per quanto riguarda il discorso tecnico c'è la conferma di Piero Millino che c'è il contratto e domani da domani inizieremo a provare dei nuovi giocatori Lucio Del Paggio il ritorno al futuro a Campli dopo un periodo di allontanamento alla società farnese si riavvicina nuovamente quale sarà il suo ruolo e i suoi compiti? Io sulle ali dell'entusiasmo che è riuscito a creare questo gruppo dirigente giovane della società sportiva con una squadra che ha dato risultati prestigiosi su questo entusiasmo c'è stato un risveglio un risveglio di passioni sopite di ricordi lontani Campli ha una storia straordinaria l'anno prossimo noi festeggeremo 60 anni di partecipazione in interrotta ai campionati nazionali di pallacanestro ed è un compleanno importante perché poche società sportive possono vantare una tradizione così importante così antica sulle ali della storia sulle ali dell'entusiasmo sulle ali di una tradizione importante ritorno al futuro forse adesso è il momento di fare un passo in avanti ulteriore cioè supportare con un gruppo di persone richiamate alle armi appunto da me supportare questa società il lavoro di questa società attraverso nuovi sponsor nuovi finanziamenti nuovo tipo di organizzazione che può dare a Campli tante altre soddisfazioni e adesso il tennis sorteggio sfortunato per il circolo tennis Costante Bernardini di Teramo che dalla possibilità di giocarsi per la prima volta nella sua storia un playoff per la Serie A si ritrova invece a disputare la roulette dei play out i tennisti biancorossi del presidente Francesco Cardisciani dopo aver concluso il campionato di Serie B a pari punti con il Milago al terzo posto hanno perso il sorteggio che li ha piazzati al quarto posto per evitare la retrocessione in Serie C adesso bisogna battere il circolo Cittadelle di Padova il match è in programma domenica sui campi in Terra Rossa del circolo tennis Teramo in via Romualdi 1365 atlete in pedana 12 regioni rappresentate 37 i comitati CSI coinvolti 79 le società partecipanti sono questi i numeri complessivi dell'undicesimo campionato nazionale di ginnastica ritmica che si sono svolte nella località turistica di Lignano Sabbiadoro il bilancio della trasferta si chiude con un ricco medagliere in cui la SD dimensione fitness ha ottenuto un secondo posto nella classifica a squadre categoria medium cerchi la SD Spesnova ha riportato un terzo posto nella classifica a coppie categoria large cerchio e nastro mentre la cam ritmica Teramo 1987 ha collezionato la bellezza di due primi posti due secondi posti e tre terzi posti e con questo chiudiamo questa edizione del nostro notiziario vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 con prima di tutto grazie per l'attenzione e buona serata